Cantieri a tempo, su tratti brevi per non paralizzare la città. Continuano con la logica dell'apri e chiudi, lavori per la realizzazione del SIR3, operativa dal 25 agosto la fase che interesserà via Facciolati, in prossimità dell'incrocio con Lungargine, Terra Negra e il ponte di Volta Barozzo per il necessario spostamento di una condotta del gas. Qui è prevista l'istituzione temporanea di un senso unico di circolazione in Lungargine e Terra Negra tra via Facciolati e via Nasini fino al 15 settembre. Sarà inoltre chiusa al traffico la campata del ponte di Volta Barozzo in direzione centro città con circolazione e doppio senso di marcia sulla campata a fianco, normalmente a due corsie. Dopo la delimitazione delle aree partirà il cantiere vero e proprio con le modifiche alla viabilità. Dal comune la rassicurazione che la situazione sarà monitorata quotidianamente per scongiurare vere e proprie paralisi in una delle porte di accesso della città.